Grazie, ma non dovevate? Ma no, va bene, capirai. Noi non mangiamo derivati da animali. È proprio una torta all'acqua. Poi noi siamo quello che mangiamo, no? Ma in effetti mi somiglia. In che senso? Noi abbiamo fatto il parto col canto tantrico. Cos'è? Noi abbiamo fatto il parto col canto tantrico.